Daniele Romualdi per Celento Channel qui all'Ancelotti Ranch in occasione della 17esima edizione del Rodeo Show. Gerardo e Maria! Eccoli qua i ragazzi dell'Ancelotti Ranch! Eccoli qua i ragazzi! C'è la 17esima edizione, noi veramente qua ogni anno facciamo sempre di più per la nostra cittadina agropolese perché ci teniamo, io sono cittadina agropolese puro, sono nato a Luciliento e me ne vanto e cerco di mantenere sempre questa cosa con i cavalli perché è una passione da terza generazione che facciamo questo, mio nonno, mio padre e io e poi ci stanno i miei figli che spero che... E di cui uno ha detto già no a me i cavalli non tanto piacciono, quello piccolino. Eccolo qua, vieni qua papà V, questo qua è quello che non ama tanto i cavalli però ci sono... E l'ho chiesto prima! Nessuno lo costringe perché ognuno è libero di fare quello che vuole però ci sono gli altri due fratellini che invece sono appassionati. Quindi tu cosa ti piace? I dinosauri! Ah i dinosauri quindi vabbè allora caro Giambiero dovrei fare, costruire per lui un ranch con i dinosauri. Sì dobbiamo fare Jurassic Park. Ultimo appuntamento sabato 26 a Renci in montagna là negli Ulivi e facciamo una festa della pasta cilentana, cavatielli, fusilli e poi sempre spettacoli con i cavalli, si mangia, si beve, si balla con musica cilentana e poi volevo ricordare che noi continuiamo a fare sempre le passeggiate a cavallo, escursioni, lezioni di guidazione e tutto il resto che mantiene nel Renci. Quest'anno come si sta presentando questo Rodèo? Bene, benissimo, come sempre Giambiero quando organizza è qualcosa che solo lui può fare. Sì lo fa con passione? Certamente, con il cuore, con la passione, con gli amici, merita molto. Perfetto, quindi un bel dieci? Sì assolutamente sì. Sì assolutamente sì. Sì assolutamente sì. Sì assolutamente sì. Grazie a tutti.